Si è verificato un cosiddetto errore cognitivo, cioè c'è stato un momento quando si somministra questo vaccino Pfizer in cui è necessario fare il cambio della fiala e la nuova diluizione. C'è stata una fase in cui l'operatore sanitario al cambio della fiala ha avuto un momento di distrazione e quindi quando è rientrato nel box ha diluito nuovamente una fiala che era stata utilizzata. E' quello che è accaduto venerdì pomeriggio all'Hub vaccinale di San Biagio a Pistoia dove sei persone al posto della dose di vaccino Pfizer hanno ricevuto soluzione fisiologica. L'errore ha spiegato la ASL che ha rassicurato che nessun utente rischia danni alla propria salute è emerso nel corso delle procedure di verifica. Nel corso del turno di somministrazione del siero Pfizer sono state 36 le persone coinvolte, 30 delle quali correttamente vaccinate. Tutte adesso saranno ricontattate per individuare con l'esattezza chi di loro non ha ricevuto la prima dose. A 30 di queste diremo che per scrupolo le chiamiamo e che presumibilmente loro hanno fatto il vaccino in maniera corretta. A 6 di queste invece riteniamo di aver individuato quali sono le 6 persone che hanno preso la soluzione fisiologica e diremo che presumibilmente voi avete preso la soluzione fisiologica senza il principio attivo. A questo punto convocheremo tutte e 36 le persone tra 28 giorni, quindi dopo 4 settimane, proponendo loro di effettuare un prelievo ematico per la titolazione anticorpale, perché la certezza di chi ha avuto o non ha avuto il principio attivo ce l'abbiamo misurando gli anticorpi che si sviluppano con certezza dopo 4 settimane. Quindi proporremo questa titolazione e nel contempo a tutte e 36 le persone proporremo in quello stesso contesto l'effettuazione della seconda dose. Così i 30 che avevano già fatto la prima dose avranno il ciclo completato dopo 28 giorni, quindi facciamo tornare una volta sola e fanno sia la seconda dose sia il titolo anticorpale. Invece le 6 persone che i risultati del laboratorio ci confermeranno non essere state vaccinate avranno preso la prima dose tra 28 giorni e completeremo loro il ciclo dopo qualche settimana.